bella gente e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft oggi signori siamo qua in un tutorial come vi avevo promesso nelle ultime ore vi sto parlando di una texture pack la minecraft dungeon resource pack per minecraft ragazzi è incredibile perchè come avete visto magari dal video che ho fatto uscire un po' di tempo fa che trovate nelle schede praticamente sono riuscito a trovare questa texture pack e non è una moda attenzione ve l'avevo detto è minecraft vanilla che sostituisce la bestia dei raid con il diciamo con il redstone monstruosity il mostro di pietra rossa ed è davvero incredibile questa texture pack la troverete in descrizione vi lascerò il link a questa pagina quindi questo link qua e per poterla scaricare dovete cliccare su download texture pack e come vedete vi farà partire il download direttamente nella cartella download del vostro computer ovviamente adesso si parla ancora di 1.15 mi sarete sicuramente chiesti per quale motivo io ho scritto 1.16 sia nel titolo che nella descrizione ho scritto 1.16 perchè questa texture pack sarà compatibile con la optifine della 1.16 appena uscirà diciamo una delle prime versioni la 1.15 in questo momento ha una optifine e quindi grazie ad essa possiamo utilizzare questa texture pack quindi in futuro dalla 1.16 dalla 1.17 poi 1.18 eccetera eccetera utilizzando la optifine sarà possibile diciamo giocare con questa texture pack benissimo ora a questo punto abbiamo il download anzi il punto zip il file mirar estratto direttamente sul nostro desktop nella cartella download a questo punto andate in qua sotto e premete percento updata percento che vi permetterà di aprire diciamo questa cartella nel roaming dove verranno inseriti praticamente i programmi che installate le loro cartelle specifiche diciamo in ogni caso cliccate l'aprire in alto punto minecraft e nella sezione resource pack andate a trascinare la cartella sposta in resource pack questo modo come potete vedere io già ce l'ho abbiamo monster restonmonster.zip la apriamo abbiamo questa disposizione con minecraft texture e come potete vedere nella sezione identità illager abbiamo revanger png con una disposizione diversa dal normale come vedete la texture è riproposta con il redstone monstrosity detto questo siete su minecraft andate in resource pack e troverete la texture del redstone monster punto zip direttamente in questa parte dello schermo di qua nel nostro caso però io l'ho già inserita qui e sarà possibile a questo punto aprire un mondo quindi andiamo nel mondo che ho utilizzato la scorsa volta per il video diciamo dove affrontavo il raid che è davvero epico quel video vi invito ad andarlo a vedere lo trovate quello di cui parlavo prima e lo trovate nelle schede mi sono divertito davvero un sacco a questo punto come vedete siamo con la optifine della 1.15.2 abbiamo anche una shader che ce lo fa diciamo intendere e ripeto quando uscirà la optifine della 1.16 sarà possibile creare il redstone monstrosity pure in contesti di 1.16 in ogni caso spawnando un revenger sarà possibile come potete vedere spawnare la texture pack della del redstone monstrosity in alcune situazioni sarà possibile vedere questo mob ritirare la testa in dentro come fa la bestia in ogni caso come vedete l'angolazione viene visto così questo redstone monstrosity se andiamo a sostituire la resource pack mettendo minecraft default come vi sto facendo vedere adesso avremo la possibilità di trovare una semplice bestia che per essere non è nulla a confronto anche se è abbastanza temibile non è nulla a confronto con il redstone monstrosity detto questo spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto vi invito ad intrappolare un redstone monstrosity nel vostro campamento nella vostra base e mandarmi uno screen su instagram taggandomi chiocciola endernico04 mi raccomando ci tengo trovate comunque tutto in descrizione per scaricare i file detto questo vi invito a lasciare un bel like schiacciare al canale e commentare andate anche in descrizione dove trovate tutte le informazioni come vi ho già detto il gruppo telegram il profilo di instagram è il sito della moti perché è la mia community detto questo ragazzi da endernico è tutto alla prossima ciao ragazzi iscriviti al canale ciao a tutti ciao a tutti